Ultima domanda, cosa pensi degli attentati a Falcone Borsellino? Gli strati non si ammazzano, si corrompono, oppure se ne vanno via. E se non si riesce a fare ne uno ne l'altro? Facciamo fare una legge attraverso quale si trova la strada. Ma non si crea in armi sociali in questa maniera. Ma chi è tenercito? Ripeto che l'abbiamo ammazzato. Un'ignorante com'è, com'è Rina. O' un pecorario com'è Provenzale di tutti e due ieri. E allora chi? Loro materialmente. Brusca accompagna in avviso un pulsante, la bomba e corsa. Ma chi ti ha detto di ammazzare che quelli non volevano corrompersi? Chi magliato? Non ci per calugni che te? Te la senti di prenderla? O vuoi essere ammazzata qui fuori da qualcuno? Ma tu che pensi che i segreti stati? Lo sai quando ce ne stanno se voluti? O vuoi verrata? Grazie a tutti.